Ciao a tutti, sono Marco Gezza, ambassador per l'Italia di Bim Santori. Oggi insieme scopriremo la distilleria Bomor, che in gaelico, in lingua gaelica, la lingua parlata in Scozia significa ampia scogliera sul mare. Ci troviamo ad Aila, una piccola isola nelle Ebridi, famosa per i suoi whisky torbati, quindi questi whisky dal sentore affumicato e marittimo. Bomor è stata la prima distilleria su Aila a ricevere una licenza ed era il 1779. Questa distilleria nasce nel paese di Bomor, che a sua volta nasce proprio in virtù della costruzione della distilleria. Pensate che sul paese, oltre alla distilleria, c'è solo una chiesa e la cosa curiosa è che la chiesa ha una pianta circolare. Questo perché? Perché si credeva che costruendo appunto una pianta circolare il diavolo non potesse trovare angoli in cui nascondersi. Distilleria che ha avuto alti e bassi durante la sua storia, ma che ha sempre tenuto botta e sempre rimasta aperta, se non per un piccolo periodo durante la seconda guerra mondiale, dove appunto la distilleria ospitava gli aerei militari. Nel 1994 però la grande rivoluzione, Bomor viene interamente comprata da Santori e proprio grazie a Santori inizia un percorso nuovo, soprattutto un percorso vocato a quella che è la gestione delle botti. Quindi grazie a Santori si ha una gestione migliore delle botti e grazie proprio a Santori oggi Bomor produce uno degli scotch più apprezzati al mondo. Uno scotch con un carattere particolare, uno scotch che invecchia nel Vols No. 1, che è il magazzino di invecchiamento più vecchio di tutta la Scozia ed è l'unico appunto in Scozia che si trova sotto il livello del mare. Quindi questo sicuramente influisce su quelle che sono le caratteristiche organolettiche dei nostri whisky. Caratteristica importante, la nostra distilleria è una delle uniche sei distillerie rimaste in Scozia che effettua ancora la fase di maltaggio a pavimento e la fase di essiccazione viene ovviamente prodotta con fumo di torba, torba tra l'altro di nostra proprietà, quindi ci approvvigioniamo di torba dalla nostra torbiera. Anche l'acqua viene presa dal fiume Laggan che è un fiume vicino alla distilleria e sicuramente queste due caratteristiche conferiscono a Bomor un carattere unico e distintivo. La fumicatura avviene come dicevo prima a mezzo di fumo di torba ma soltanto per metà del malto. L'alta metà del malto viene essiccata con aria calda, quindi Bomor è un whisky torbato ma non eccessivamente fumoso, siamo a circa 22 parti per milione di torba. Una delle sue più grandi caratteristiche presente in tutta la gamma di Bomor è quella di fare la fase di fermentazione in queste vasche di pino dell'Oregon e questo conferisce a tutti i nostri Bomor questa nota fortemente caratterizzante di frutta esotica. Ad eccezione di Bomor number one che come vedete non specifica un anno di invecchiamento sulla bottiglia e quindi è chiamato un no age statement, tutti gli altri Bomor invece esplicano quello che è l'invecchiamento proprio sul frontale dell'etichetta. Vi ricordo che a differenza di quanto siamo abituati a pensare parlando di rum, nel caso dei whisky quando leggete un anno di invecchiamento sulla bottiglia si fa sempre riferimento al liquido più giovane contenuto all'interno della bottiglia.